Buon pomeriggio amici lontani e vicini vi presento subito i nostri ospiti il produttore di vino in malvasia Bartolo Losinno e il cavaliere Felice D'Ambra presidente dell'associazione dei direttori d'albergo della Sardegna ancora in vacanza per modo di dire nell'arcipelago delle Oli e in particolare nella sua Lipari. Come potete notare ci troviamo in un luogo che dire magico è forse poco, siamo nella conca del monte tra i vigneti che potremmo considerare Bartolo tra i più antichi dell'isola. Dell'isola è forse anche di più perché questo vigneto è resistito alla filosofia del 1880-1888 perché mentre tutti gli altri vigneti europei sono stati attaccati e sono morti tutti anche per un motivo molto semplice, siccome noi abbiamo un terreno vulcanico la filosofia fa difficoltà a muoversi e ci sono qualche vigneto, piccoli vigneti sia sotto l'Etna e sia sotto il Vesuvio. Poi tutti gli altri vigneti si sono tutti distrutti e allora si è ricorso per l'alternativa alla vita americana che sarebbe un portinnesto perché c'è un portinnesto selvatico e poi si innesta sulla vita buona. Questo invece vigneto è di, non lo so, forse saranno tre secoli, saranno forse di più e un vigneto franco di piedi, sarebbe a dire che non ha vita americana, c'ha solamente franco di piedi, è diretto, si prendeva la vita e si faceva diretto. In più c'ha questo vigneto che ha 300 anni, che lo posso documentare in base alle testimonianze dei vecchi di adesso, per esempio i vecchi che c'erano prima, cioè adesso c'è qualche vecchio di 80 anni, si ricorda che il nonno c'era il vigneto qua, perciò si ricorda il nonno, perciò io parlo. Una volta c'era un unico proprietario in questa fossa? Forse dovrebbe essere un unico proprietario o due, ma io penso uno, un unico proprietario. Ora invece la zona è frazionata, c'è il tuo vigneto, ma ce ne sono anche degli altri? Sì, ce ne sono tanti, ce ne sono un bel po'. Ecco, ma qual è la strategia della realizzazione del vigneto in questa fossa? Perché è un luogo, come dire, riparato anche se però il vento soffia. Ma diciamo è il terreno, penso io che sia il terreno di origine vulcanica che, essendo che è un terreno anche leggero, essendo anche di origine vulcanica, ha tutto quello che dovrebbe servire alla pianta della vita. In effetti qua questo vigneto si dice che non muore mai, se noi andiamo in quei pergnignati abbandonati che ci sono là, ci sono ancora delle vite che resistono in mezzo a tutto quello che c'è, spine, tutte le porcherie che ci sono, loro resistono ancora. Quindi il segreto per questo vino è buono in tanti luoghi? Prima di ogni cosa, io penso, non è che sono un grande esperto, però dalle mie piccole esperienze io penso che sia il fattore che è il terreno, il clima, perché qua si crea di notte un po' freddo e di giorno adesso no, ma se uno viene a mezzogiorno fa molto caldo, se uno cammina qua a scalzo si brucia anche i piedi. Quindi un clima ideale? Un clima ideale per fare un ottimo vino, dicono quelli molto più bravi di me. Com'è nata questa passione? Beh, è nata un po', diciamo, è nata perché quando uno nasce da famiglia di contadini, non lo so, gli rimane qualcosa dentro, la terra gli rimane qualcosa della terra e allora quando poi incomincia a essere molto più grande e incomincia a capire tante cose o a vedere la vita, com'è il mondo, la vita, come si gira, come vanno, allora c'è come un ritorno all'agricoltura, alla parte contadina. E io ho avuto un ritorno, diciamo un ritorno anche perché qua il vino veniva sempre buono. Allora io ho voluto cercare di… ho modificato il sistema di impianto perché prima era un alberello basso, più che altro era un… Questo per esempio del vicino, giusto? Del vicino era un alberello basso a spalliera e io ho fatto una spalliera più alta, diciamo… Che è questo che… Che è questo che… Dalla parte opposta. Dalla parte opposta, diciamo, una spalliera più alta che avrà i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Quali sono? Spieghiamoli. Ma secondo me io non è che ho una grande esperienza, io l'esperienza me la prendo piano piano che vedo le difficoltà… Sul campo, l'esperienza sul campo. Io la vedo sul campo. Anno in anno, no? Anno in anno, questo qua sicuramente ha dei vantaggi sul vento perché essendo basso il vento lo colpisce meno e questo invece essendo più alto, anche se il frutto è a 60 cm sulla prima fila, il vento poi lo colpisce, ci sarà, però secondo me, questo è come svantaggio, ma c'è il vantaggio che si può lavorare meglio in questa maniera, perciò la mano d'opera, questo è stato il mio principio, diciamo, io devo modificare perché in quelle condizioni come quel vigneto io non posso lavorare perché il costo della mano d'opera diventa eccessivo, lo devo abbandonare. per non abbandonare questo vigneto ho preso quest'altro tipo di sistema che va bene, lo posso lavorare meglio, posso raccogliere anche l'uva meglio perché qua si raccoglie veloce, di là si rompe la schiena, si rompeva la schiena. Un'attività mi pare che va avanti ormai da 25 anni e che cresce di anno in anno, no? Io cerco di migliorarlo in base a quello che posso, diciamo, di migliorarlo e vorrei portarlo anche a un livello molto più alto. Ecco, oggi a che livello siamo di produzione? Ma oggi io diciamo che ho modificato l'impianto, vent'anni fa l'ho fatto piano piano perché essendo un esperto tutti qua mi criticavano, chi mi diceva che dovevo mettere le lenzuole su questo filo, in poche parole io non essendo molto, come si dice, addentrato, avevo difficoltà a muovermi e allora lo facevo piano piano, vedevo perché, come ripeto, ho fatto esperienza sul campo, piano piano vedevo come si muoveva le cose e mi muovevo anch'io. Poi c'è stata anche la collaborazione con Nino Caravaglio? No, Nino Caravaglio no, con Nino Caravaglio solamente io ho venduto del Gorinto, come ho venduto del Gorinto anche ad altre ditte. Caravaglio io ho solo venduto, gli ho dato anche delle mazze che lui ha portato a Salina, che lui ha innestato anche le sue vite a Salina di Gorinto sulle sue mazze perché loro hanno, io non lo so bene, però a Salina hanno un altro tipo di Gorinto perché i Gorinti dalla mia conoscenza ce ne sono tre tipi, il bianco, il nero che è questo, il bianco io non l'ho mai visto, da bambino l'ho visto qualche volta, forse era Gorinto bianco, forse era un uva bianco, non lo so. Poi c'è il rosè che la chiamano cuccarina, una cosa del genere, hanno un nome così e poi il nero che ce l'ho io. Ma dicono che questo nero è uno dei migliori, fra tutte e tre è il migliore. I risultati si stanno vedendo, è un vino che viene richiesto anche in diverse parti del mondo, recentemente c'è stato anche un sopralluogo mi pare di giapponesi. Sì, sono venuti giapponesi, francesi, americani, cinese, è venuto anche un cinese, poi adesso non... Sì, diciamo cinese, americani, in più e poi anche italiani diciamo. Il guaio qual è che non si riescono a soddisfare le richieste? Sì, in effetti il vigneto è questo diciamo, la produzione siccome è leggero come vitigno, cioè sarebbe come grappolo, ha i chicchi piccoli, i chicchi rossi, ha delle particolarità però non ha una grande produzione. Cioè la produzione diciamo è limitata anche perché questo vigneto essendo molto vecchio ha delle produzioni un pochettino minore, non è come un giovane che essendo quando è giovane non si può caricare. E non si può caricare perché se uno carica di più il vecchio poi il vecchio muore, parliamoci chiaro, perciò deve equilibrare un pochettino questo tipo, questo vitigno vecchio con la pota e equilibrarli in una maniera che ce la fa a resistere, a resistere diciamo il frutto. E in più poi questo vigneto è stato anche moltiplicato con un sistema sempre antico, essendo che la vita è franco di piedi, che non ha il selvatico sotto, questa vita, perché questo vigneto si dice che ha 300 anni diciamo, però il ceppo non ce l'ha 300 anni, ce l'ha il vigneto, sarebbe a dire che qua il vigneto diciamo per 300, forse anche di più, diciamo questo vigneto ha sempre resistito perché ogni anno, ogni anno, ogni 2 anni, ogni 3 anni dipende, dipende la disponibilità o anche diciamo, si mette la famosa vita in funno, in poche parole, si prende una vita e si fanno 5-6 vite, tutto qua, e si moltiplano in questa maniera. Per cominciare a rinnovarlo? Per rinnovarlo sì, e si incomincia sempre in questa maniera. Non so se è un sistema che sia, non so quanto sia valido diciamo in produzione, però penso che sia valido in qualità, perché con questo sistema uno avrà sempre una produzione franco di piede, cioè sarebbe a dire che è sempre la stessa madre, la vita è madre e non ha un selvatico, perché quando c'è un passaggio, dalle mie conoscenze ed esperienze, quando c'è un passaggio dal selvatico diciamo a questa vita che uno vuole mettere, si perde un po' di qualità. Poi saranno i bravi enolici a poterlo aggiustare, a migliorarla, a sistemarla in una maniera come si vuole. Fuori di dubbio che c'è tanta passione attorno a questo vigneto, ma c'è anche un impegno, un indifferente in tutti i sensi, anche direi a livello economico. Sì, c'è l'impegno economico e c'è anche l'impegno perché va curato, debbo seguirlo personalmente, perché non ci sono neanche persone competenze che uno gli dice vai e mi fai questo, perché io ho mandato qualcuno e lo trovo anche che dormiva sotto la pianta, ma non è questo. Ma non c'è neanche la persona competente nel senso di capire perché tutte quelle persone competente, cioè il problema anche da noi nella nostra agricoltura diciamo eoleana c'è stato un salto, cioè dalla vecchia, dalla generazione c'è stato proprio una generazione che non si è interessato più. Ora c'è un boom. Ora si sta cercando, però mi sembra che ci sono più difficoltà, mentre quando il passaggio è un po' graduato, è un po' più meno invadente, quando invece si passa da una parte a ritornare un'altra volta, come me, io che scendo da una famiglia di contadini, venivo dalla famiglia di contadini che mio padre mi portava sempre, mi faceva, anche io non mi piaceva venire qua, mi è piaciuto dopo che ho capito che veramente, mi è piaciuto perché mi sono appassionato, anche il luogo è bellissimo, qua quando io vengo qua, non lo so, c'è qualcosa che non so descrivere, se puoi chiamare, trovo una grande tranquillità. È un antistress. Sì, è un antistress, io vengo qua e mi rilasso, in effetti una volta ho trovato dei trentini, c'era una coppia di trentini, abbiamo messo a parlare, abbiamo un po' parlato e anche loro mi dicevano che loro quando vanno in montagna, in alta montagna, si rilassano, trovano un qualcosa, che forse provo anche io qua, non lo so, perché non posso... Tanto vino, ma anche malvasia, solo che la malvasia è a livello familiare e per gli amici. La faccio qualche bottiglia, la posso dare a qualche amico, ma è a livello perché la produzione è piccola e poi qua non credo che sia un terreno proprio per le malvasie, anche se la malvasia va bene per tutte le isole, diciamo perché è terreno adatto, però qua c'è un grosso problema perché la malvasia ha bisogno di molta ventilazione e anche una buona esposizione, c'è anche l'esposizione, non ci debbano essere ristagni di umidità, perché la malvasia se prende un attacco e non è curata, non è uno presente per un ospera, non trova più neanche un grappolo di malvasia. Che stagione ci sarà? Io guardando qua in tutta la fossa vedo che la stagione, sentendo anche i vicini miei, è nera, non hanno proprio niente, neanche il 20%, il 30%. Io posso dire che ci avrò il 70% di Corinto. Quindi il segreto c'è sempre? Il segreto non lo so se si può chiamare segreto, io penso che si chiama lavorarci, perciò io i primi di giugno ho fatto un trattamento di ramo e zolfo, zolfo bagnabile, per un ospero oidio, la quale poi sono mancato un 10 giorni perché sono andato via per motivi di lavoro e quando sono ritornato ho visto che ci sono degli attacchi di peronospere, la quale ce l'hanno avuti tutti, non ce l'ho avuto neanche io. Io forse perché avevo fatto dei trattamenti ho qualcosa in più, ho visto che gli altri non hanno niente, non so se non hanno niente per questo motivo o forse non avevo niente prima. Io il prodotto ce l'ho, almeno io non mi posso lamentare, se questo prodotto lo porto a maturazione, per me io ho il 70-80% di produzione, non ce l'ho al 100%. Hai partecipato anche al Malvasia Dei, quindi c'è stato questo confronto con tutti i produttori di vino e di Malvasia delle Oli, quali sensazioni? Sarebbe a dire... Quell'incontro con tutti questi produttori... È stata una sensazione bellissima perché c'erano tutti produzione di Salina, che Salina è la madre delle Malvasie, e anche c'era Vulcano, c'era Panarea anche, c'era anche un produttore di Panarea... C'è un milanese... Si conosco, Petrata, Petrata, non so che conosco questo milanese, che lui c'ha un vigneto a Panarea e adesso ha comprato anche a Salina, anche dei vigneti di Malvasia. Beh, diciamo, è stata una sensazione bellissima perché eravamo anche in una zona, c'era un atmosfera anche molto bello, perché Capofara era veramente... c'è stata una grande organizzazione, secondo me, io non è che ho visto tante manifestazioni, però questa a me mi è sembrata una delle... sono andato anche due anni prima, due o tre anni prima, però era di notte ho visto poco, adesso che l'ho visto un po' all'Umbro non era neanche tanto giorno, diciamo, ho trovato che veramente era organizzato benissimo, fatto veramente bene. Questo però penso che anche noi liparoti ci dobbiamo un po'... non solo in queste organizzazioni, diciamo, a livello di Malvasia, vino, ma anche abbiamo tanto qua nell'isola che non sappiamo neanche sfruttare, questo diciamo, dobbiamo un po' cercare di... abbiamo tanto e non prendiamo niente. Cavaliere, anche lei ha partecipato a Salina, alla Malvasia Dei, quindi è stata un'occasione per tutti i produttori euliani, Bartolo Losinno in testa, per essere protagonisti. Nella crisi che colpisce anche l'Arcipelago delle Oli, questa diciamo che è una delle voci positive. Sì, sì, senz'altro è una voce positiva, io sono felicissimo per Bartolino che ormai seguo da quando lo è iniziato, perché ho sempre parlato lui di vini in continuazione. mi ha sempre fatto assaggiare dagli inizi tutti i suoi vini, che io dicevo sempre, guarda questa gradazione, ma veramente lui è un grande innamorato, una grande passione che io ammiro veramente e mi auguro che Bartolino vada molto avanti, perché so che cos'è Corinto Nero, è uno dei più antichi vitigni e questo vino, la forza del mondo, è uno dei migliori nel senso assoluto. E un buon vino fa anche turismo, soprattutto seoliano, no? Un buon vino anche seoliano fa veramente turismo, come dice Bartolino, bisogna veramente organizzarsi. Tutti gli albergatori, tutti coloro che fanno turismo dovrebbero fare nel migliore dei modi, senza, 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 come si dice, spegnellare il turismo, perché veramente si sta esagerando. Bene, abbiamo completato, ringraziamo Bartolo Losinno e il Cavaliere Felice D'Ambra. Grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi. Arrivederci. Grazie a tutti.